Civil Week 2024 siamo a Milano nel municipio 9, qui nella sede della cooperativa Diapason. Che cosa avete deciso di portare alla Civil Week? Allora, portiamo diverse attività. Fuori, in via Volturno, dove abbiamo la sede di Epicentro, che è uno dei servizi di Diapason, ci saranno i giochi di cartone. Un'idea di reciclo, di utilizzare cose che le persone, le famiglie hanno a casa, quindi scatole, principalmente scatole, e trasformare queste cose in attività divertenti, sia nella costruzione insieme a mamma e papà, sia invece proprio nel giocare. E invece l'altra cosa che portiamo sempre qui nella sede di Epicentro è questa mostra che si chiama Ma ti pagano? Storie di quotidiana educazione. In realtà la mostra è un po' più grande, però qui lo spazio è piccolino, quindi oggi racconteremo l'educatore cross-mediale. Cosa vuol dire? Sono due le domande. Che cos'è l'educatore? Cosa fa l'educatore? Che nessuno lo sa. E ma ti pagano? E ma ti pagano, perché molto spesso è una domanda che noi educatrici e educatori ci sentiamo fare dai ragazzi con i quali lavoriamo. Noi lavoriamo nella quotidianità, nel tempo libero, quindi molto spesso, oltre ai compiti, facciamo un sacco di attività ludiche. E per loro è strano che sia il nostro lavoro. E quindi ci chiedono molto spesso, ma che lavoro fai? E quindi gli si spiega che questo è il mio lavoro. E quindi ma ti pagano è una frase che molto spesso ci sentiamo chiedere, ecco. Come mai avete deciso di partecipare alla Civil Week? Beh, è un evento importantissimo per la città di Milano perché dà la possibilità a moltissime realtà del terzo settore di mettersi in mostra, di raccontarsi e di far vedere il valore enorme che hanno queste realtà. Perché? Perché il tessuto sociale ne ha bisogno e perché i cittadini crescono molto spesso insieme alle associazioni, alle cooperative sociali. E quindi ci sembrava doveroso esserci anche quest'anno. Grazie mille, buon lavoro e buona Civil Week! Ciao!